Sono ritenute le teste pensanti dell'organizzazione criminale dedita al traffico e allo smaltimento di rifiuti pericolosi nelle campagne del Brindisino e del Frusinate, sgominata dai carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli. Con queste accuse, due imprenditori, uno di Venafro e l'altro di Campomarino, sono finiti in manette insieme ad altri nove componenti di una banda su cui la direzione distrettuale antimafia stava concentrando da tempo le sue indagini. Manager e mediatori di un vero e proprio traffico illecito che mettevano in contatto ignare società produttrici di rifiuti urbani e speciali pericolosi, con siti di smaltimento che risultavano poi inesistenti o abusivi. In particolare, i due molisani finiti in manette, attraverso una società la cui sede è risultata a Isernia, avevano il compito di indicare i siti di smaltimento fittizi che venivano presentati ai clienti e poi smistare i cumuli di rifiuti che venivano interrati in discariche abusive dell'Alto Lazio, vicino a Sora, nei comuni pugliesi di Brindisi, Bari e Lecce e in una ex area industriale in provincia di Salerno. Complessivamente, i carabinieri hanno accertato che sono stati interrati, occultati o bruciati circa 7.000 tonnellate di rifiuti, per un giro d'affari che supera il milione di euro. I provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Roma sono spiccati nei confronti di titolari di aziende di trasporto e di società di intermediazione residenti nelle province di Napoli, Milano, Roma, Brindisi, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno. 11 in tutto i destinatari del provvedimento, indiziati per i reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva.